Nel momento il match, pallone che da Snyder va a Obi, poi a Pandev che entra in aria, Goran è solo, il tiro, primo gol, pronti via, un minuto, Inter già in vantaggio, con il gol di Goran Pandev. E' bella questa manovra perché il movimento e l'ingresso dalla sinistra è decisamente pregevole, veramente pregevole, entra in aria, non può sbagliare da quella...